Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. 23 anni fa l'acqua del Tanaro si portò via a gran parte della città di Alessandria. 14 le vittime di quella drammatica alluvione rimasta indelebile nei ricordi dei cittadini. Oggi sono in programma una serie di cerimonie per ricordare quei terribili momenti, mentre fra poco il comitato, oltre il fango, salirà sul treno per Torino, dove spera in un incontro con la regione Piemonte per chiedere la sicurezza definitiva lungo le sponde del Tanaro. Ma sentiamo Ketty Porceddu. Sono passati 23 anni da quella terribile alluvione che colpì Alessandria. Il 6 novembre del 1994, eppure quella data ogni anno si fa sempre più vicina, a testimoniare un ricordo indelebile scolpito nel cuore di chi l'ha vissuta e di chi l'ha sentita attraverso i racconti. 14 morti che si portò appresso, inghiottiti dal fango e dalle macerie di quell'ondata di piena che in poco tempo si è divorata anche case, strade, intere strutture, oltre a speranze, sogni e battiti di una vita normale. Chi c'era quel 6 novembre si ricorda bene alla desolazione, l'odore di fango e cherosene che aveva impregnato i pori della città, ma soprattutto il silenzio. Alessandria in un battito di ciglia era diventata il fantasma di se stessa, ovattata nel suo grigio respettrale. Subito dopo la catastrofe era partita la macchina della solidarietà, con tutte le forze dell'ordine, i volontari, tantissimi, che nel darsi freneticamente da fare sembrava volessero riempire la mente con la fatica per non pensare alla realtà di una città quasi completamente distrutta. Oggi, come tutti i 6 novembre d'allora, Alessandria ricorda la tragedia dell'alluvione. Il vescovo Guido Gallese lo ha fatto con una messa in Duomo, le autorità con una corona di alloro al monumento per le vittime nel parco Carrà, Donivo e i suoi fedeli di San Michele, dove il Tanaro raggiunse l'apice della sua forza con un'altra corona, questa volta alla lapide che ricorda le vittime del soborgo. Ma non ci sono solo le lacrime a fermare quel tempo. A distanza di 23 anni c'è ancora tanta rabbia, ma soprattutto, ancora una volta, tanta preoccupazione per una sicurezza che male si intona alle grandi piogge. Il comitato oltre il fango questo pomeriggio sarà a Torino per chiedere alla regione che si possa finalmente dire basta alla paura. Ma il presidente Chiamparino ha già fatto sapere che oggi non è a Torino per altri impegni. Cambiamo argomento perché è morta l'Alessandrina affetta dall'ombalgia che ha cessato di vivere in attesa dell'ambulanza bloccata da un incidente. Lo deve stabilire l'inchiesta della Procura. Intanto domani ci sarà l'autopsia sulla Salma. Emma Camagna. Sarà sottoposta domani ad autopsia la Salma di Mariangela Lionello, la casalinga di 64 anni, abitante in Alessandria, affetta dall'ombalgia, dimessa dall'ospedale, stramazzata al suolo in casa per cui i familiari hanno chiamato l'ambulanza, nell'attesa della quale la donna è morta. Il mezzo, infatti, è stato bloccato da un incidente. L'esame è stato disposto dal sostituto procuratore della Repubblica, Giovanni Gasparini, titolare dell'inchiesta, il quale ha deciso di scrivere, anche solo come atto dovuto, almeno per il momento, uno o più persone. I familiari della donna che hanno presentato denuncia alla polizia, chiedendo di fare chiarezza su quel decesso, si sono affidati agli avvocati Giuseppe Lanzavecchi e Davide Danino per essere assistiti. Mariangela Lionello aveva accusato un gran male alla schiena il primo novembre ed era stata accompagnata alla guardia medica, dove le era stato prescritto un farmaco antidolorifico. Poiché al ritorno a casa le sue condizioni non erano migliorate, si era deciso di andare in ospedale. Qui, dopo una radiografia, la paziente è stata dimessa con la diagnosi di lombalgia, senza fornire un certificato clinico attestante altri accertamenti. Mariangela Lionello è morta al pomeriggio del 2 novembre, appunto dopo essere stramazzata in casa e non aver potuto raggiungere l'ospedale, essendosi bloccato in mezzo di soccorso. Situazione molto delicata per la Borsalino, che domani sarà chiamata in tribunale ad Alessandria dopo l'istanza, respinta alla missione del concordato preventivo. I sindacati nel pomeriggio incontreranno il prefetto Romildo Tafuri per cercare una soluzione che preoccupa non solo dal profilo aziendale, ma anche da quello lavorativo, con i 130 dipendenti che attendono di conoscere il loro futuro. L'azienda solo lo scorso anno ha fatturato più di 15 milioni di euro, ma nonostante la piena attività gravano i debiti pesantissimi, i contratti alcuni anni fa dal bancarottiere Marco Marenco, protagonista del secondo crack italiano dopo quello di Parmalat, il quale come azionista aveva buttato la Borsalino nel giro di aziende Carosello che gli sono servite per i suoi traffici illeciti. Dopo tante peripezie, l'imprenditore italo-svizzero Filippo Camperio, titolare della R.S. Chita, ha acquisito il cappellificio investendo tantissimo, ma il concordato preventivo presentato in tribunale dal suo CDA con la clausola che lui rimanesse alla guida della Borsalino è stato respinto in primi stanza e la paura è che il colosso fatturiero possa essere messo a gara con tutti i dubbi sul futuro occupazionale. Restiamo ad Alessandria, dove la città stamane ha dato l'ultimo saluto a Luisa Vittoria Rovida, detta Gigi, morta l'altro giorno per i problemi di cuore all'età di 94 anni. La donna è stata un'istituzione in città perché fu proprio dalle sue mani che prese in via la tradizione gastronomica di quella che oggi è la pasticceria Rovida e Signorelli. Gigi aveva smesso di produrre i suoi canapè, pizzette, volovan solo quattro anni fa ma nel suo passato le prelibatezze, comprese i dolci che preparava insieme alla sorella Maria Antonietta, conosciuta come Nini, hanno accompagnato le tavole di personaggi illustri come quelle della principessa Carolina di Monaco, Miuccia Prada, Marta Marzotto. Con la sorella aveva anche confezionato dei dolci per la missione in Zaire di Papa Voitiwa. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Sant'Alessandro insieme ad amici e clienti attorno al peretro si è stretta tutta la famiglia che stamane ha tenuto le serrande abbassate di un bar pasticceria che ha contribuito a costruire la storia di Alessandria. Voltiamo pagina in occasione della festività per ricordare i cari defunti l'Anmil provinciale di Alessandria ha svelato la lapide commemorativa dei caduti sul lavoro. L'inaugurazione si è tenuta al cimitero comunale alla presenza del presidente nazionale Anmil Franco Bettoni che è anche il referente italiano della FAND, la federazione fra le associazioni nazionali delle persone con disabilità. E per la FAND provinciale c'era il presidente Giovanni Barosini. Una preghiera per le persone vittime degli incidenti sul lavoro. Oltre che nel cuore, ora è possibile rivolgerla anche volgendo lo sguardo alla lapide commemorativa che l'Anmil provinciale ha fatto collocare nell'ingresso del cimitero di Alessandria. Da 75 anni questo sodalizio rappresenta i mutilati e gli invalidi sul lavoro e in occasione della cerimonia dell'altro giorno ha voluto condividere questo momento con gli altri rappresentanti della FAND, la federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità. Le tre morti al giorno, i 2.500 incidenti al giorno sul lavoro, le tante persone che dalla mattina alla sera la propria vita viene stravolta, nel 2017 sono cifre che ci devono impressionare. Noi dobbiamo continuare a ricordare, nel ricordo delle vittime dei centri sul lavoro, la loro presenza per far sì che le future generazioni, i futuri lavoratori, i futuri dirigenti, i futuri imprenditori, consapevoli che sul lavoro ci si fa male, si muore, ci si ammala, lavorino perché ciò non accade insieme alle istituzioni preposte. Accanto alla parola infortunio va assolutamente abbinata anche la parola prevenzione e la prevenzione si fa a partire dalla scuola. C'è una bella comunicazione legata proprio al Ministero dell'Istruzione da dare. Nelle settimane scorse abbiamo firmato un protocollo d'intesa molto importante col Ministro Fedeli della pubblica istruzione per mettere al centro la sicurezza sul lavoro nei futuri alternanza scuola-lavoro, ne sentiamo parlare. Ancora di più oggi dobbiamo fare più prevenzione portando le nostre storie che siamo i testimonial dell'insicurezza sul lavoro per far sì che i futuri lavoratori non abbiano ciò. Questo accordo è stato firmato al Ministero e la prima tappa sarà il 22 di novembre che è la giornata della sicurezza nelle scuole e noi tutti insieme andremo nelle scuole a parlare di sicurezza ai nostri giovani. Poi noi siamo collegati con le scuole sulla prevenzione proprio per trattare il problema dei futuri lavoratori giovani proprio perché crediamo che quella platearia sia quella che poi darà più impulso alla sicurezza nei posti di lavoro un domani che rientrano nelle competenze produttive. Giovanni Barosini era presente nella duplice veste di presidente provinciale FAND e assessore comunale ai lavori pubblici. Spesso si parla di barriere architettoniche e su questo fronte spesso si viene martellati nel suo assessorato. Che cosa si sta facendo? Innanzitutto rilevare tutte le problematiche che esistono dal gradino per accedere nei locali pubblici ma anche per gli attraversamenti pedonali. Stiamo facendo un monitoraggio su questo e soprattutto cercando di investire, destinare più risorse su questo che per anni sono state un po' disattese. Il lavoro in collaborazione con le varie associazioni è preziosissimo e non ci sottraiamo assolutamente. La CIA di Alessandria è in festa per i suoi primi 40 anni di attività. Tra novembre 2017 la CIA, Confederazione Italiana Agricoltore di Alessandria, compie 40 anni di attività e l'organizzazione celebra l'evento a Palazzo Monferrato attraverso numerose iniziative. Una tavola rotonda, una mostra fotografica, la presentazione del libro, del calendario associativo, il restyling del nuovo sito internet e l'assegnazione di alcuni riconoscimenti. Presidente, quante cose sono state fatte in 40 anni ad Alessandria e dagli agricoltori? Ma quanto tempo è passato in 40 anni? Ricordo che negli anni 70 c'era l'austeridi. Oltre all'austeridi ricordo che c'era un'inflazione che superava il 20%, si immagini. Ma quanto è cambiato il mondo? Come è diventato molto più veloce? Come è diventata più sensibile le persone verso l'ecosostenibilità, verso il cibo, verso la tracciabilità dei prodotti, verso la qualità, verso il made in Italy? Ma quanto è cambiata la comunicazione? Sono cambiate moltissime cose. Alcune cose non sono cambiate, non tutte sono così positive. Una delle questioni che noi amiamo sottolineare, secondo il nostro convegno, è il valore del territorio, il valore dell'immagine che ha creato l'uomo durante il percorso abitativo e storico che ha fatto nel posto. Cioè noi oggi il made in Italy non è soltanto il cibo o il prodotto, il made in Italy è anche il territorio. Quindi da noi c'è una storia incredibile che conta centinaia di migliaia di anni, che ha creato una cultura, un territorio, un cibo, una convivialità che è particolare, che tutto il mondo ci invidia. Oggi noi qui siamo per festeggiare gli agricoltori che ci hanno accompagnato, un'organizzazione che ha saputo adeguarsi ai tempi e condividere con le istituzioni e con i nostri amici coltivatori in questo momento importante. Lei che è il Presidente nazionale e che ha il polso di tutta Italia. In termini di rappresentatività, quanto conta la provincia di Alessandria in agricoltura? Alessandria ha grandi eccellenze, da quelle cerealicole all'ortofrutta, al vino, alle produzioni lattiero casearie, alla montagna, alla pianura, alla collina. Quindi è una provincia fortemente produttiva e molto importante per la Confederazione e per l'economia del Piemonte, direi nazionale. Dove sta andando la rappresentanza agricola oggi? Beh, la rappresentanza agricola deve rinnovarsi in relazione a come si rinnova il mondo. Noi siamo in cammino, un cammino faticoso che però sta portando dei frutti. Aggregazione delle strutture, dobbiamo essere di meno, più agili, competenti, capace di interloquire con la politica e essere davvero l'interfaccia tra le istituzioni e le aziende agricole. Questo è il nostro mestiere, oltre a quello di servire i cittadini attraverso il nostro patronato e il nostro capo. Altri festeggiamenti ieri per la Coldiretti di Alessandria in occasione della giornata del ringraziamento festeggiata a Casale Monferrato. Sentiamo Roberto Paravidino e Renato Baldi, rispettivamente presidente e vice di Coldiretti Alessandria. Domenica 5 novembre, una giornata particolare per la Coldiretti di Alessandria perché celebra in anteprima nazionale la giornata del ringraziamento. Quest'anno avrà come tema nazionale la terra ospitale, dove veramente si racchiude un messaggio molto importante dei nostri coltivatori, ma è un momento importante anche per la Federazione Alessandrina perché si presenta, non diciamo soltanto un bilancio, ma qualcosa di più dell'annata agraria, un'annata agraria particolare anche questa, vero presidente? Sì, un'annata agraria molto particolare perché è stata determinata logicamente da condizioni atmosferiche avverse, specialmente nel primo inizio dell'anno, parliamo delle gelate, parliamo della grandine, poi nel secondo semestre c'è stata logicamente la siccità e sono condizioni che logicamente hanno condizionato il derese, hanno condizionato anche la nostra campagna, per fortuna è rimasta inalterata su tanti prodotti la qualità. Sì, qua infatti noi abbiamo detto più volte, ne ha risentito la quantità ma non la qualità delle produzioni made in Italy. Sì, perché c'è stato logicamente un grande lavoro della Coldiretti anche con i nostri tecnici nelle zone per dare ausilio ai nostri agricoltori attraverso metodi culturali che hanno saputo comunque contenere certe avversità e per fortuna la qualità non ha risentito. Questa festa è errante, si può dire, perché ogni anno cambiamo zona e quest'anno ho deciso di fare la casale perché, posso anche dirlo, non mi presenterò più al rinnovo della mia carica e dunque volevo finire in bellezza con una bella festa. Doppiamente contento, se non, magari gli altri no, che è una giornata più viginosa, però, vedi, magari bisogna anche ringraziare per questa cosa. È tornato a riunirsi il Club Chivanis Alessandria, Città della Paglia. Riunione operativa per il Club Chivanis Alessandria, Città della Paglia, che mette al centro i bambini e il loro benessere, nella consapevolezza che anche un piccolo gesto può cambiare il mondo. L'operato di questo sodalizio, che ha come motto Serving the Children of the World, si declina in più progetti. Oggi festeggiamo il One Day del nostro Club, perché il One Day internazionale è stato il 28 di ottobre e come divisione 18 abbiamo portato un assegno da 700 euro all'ospedale Regina Margherita di Torino per comprare una poltrona relax per il reparto pediatrico. Questa sera, invece, il mio club farà su, raccoglierà dei fondi tramite i soci, questa piccola riunione conviviale, da devolvere a una famiglia bisognosa qui della città, le faremo la spesa, quello che serve. Il nostro prossimo appuntamento sarà venerdì 17 al ristorante 7 novembre, al ristorante Il Grappolo, verrà il relatore Varisco, il cavaliere Varisco di Milano e ci parlerà di cavaliere dell'Ordine di Malta e dei Templari nell'Alessandrino. La serata conviviale è stata l'occasione per parlare dei progetti futuri. Faremo un service unico quest'anno, dedicato a Teleton Italia, che si occuperà di malattie genetiche nei bambini. Parrucchieri italiani che si fanno onore a Parigi. Tre minuti con Maurizio Silvestri. Allora, oggi questi tre minuti li richiamo a Uvada e nello specifico sono qua con Gian Piero Pastorino, che è il segretario regionale Liguria dell'ANAM. Cosa si parla? Si parla di parrucchieri. Tanti ragazzi so che sono appassionato di questo lavoro, anche se è un lavoro duro, però lui ce lo saprà dire. Abbiamo fatto questa intervista perché abbiamo rappresentato, eravamo a Parigi? A Parigi. A Parigi con sette medaglie d'oro, tre medaglie d'argento e quattro medaglie d'oro, insomma tantissimo. Era il campionato del mondo. Il campionato del mondo. A Parigi, il giorno in settembre, dove c'erano 44 nazioni rappresentate, 10.000 spettatori, perché c'era anche la fiera del settore, e l'Italia, che si chiama l'Italia INAI, INAI vuol dire Istituto Nazionale Acconciatori Italiani, il presidente è Elio Vassena, ed era in questa occasione il presidente del concorso, il responsabile del commissario generale. E niente, l'Italia ha portato a casa sette medaglie d'oro, 4-5 di argento e 4-5 di bronzo. Noi facciamo questi tre minuti sempre con gente che si lamenta, con gente che dice questo, questo. Invece tre minuti belli così a rappresentare l'Italia all'estero, vincere delle medaglie è carino. Ma io penso di sì, perché in televisione vediamo sempre, l'Italia è evidenziata in tutti gli sport, in tutte le occasioni, adesso addirittura andranno alle Olimpiadi i videogiochi, noi invece parrucchieri, tagliamo i capelli, siamo a contatto con la gente, con l'essere umano, che cerchiamo di abbellirlo, sia l'uomo che la donna. E non se ne viene mai a parlare. Invece se avrete occasione di vedere questa intervista, noterete che effettivamente da dei capelli si possono fare delle cose meravigliose. Gian Piero, senti, siccome tanti ragazzi anche ci seguono, che consigli possiamo dare a un ragazzo che vuole intaprendere questo mestiere delle parrucchiere, che è un mestiere che sembra semplice, ma stai sempre in piedi. Poi io dico sempre, dopo il parrucchiere c'è il barista e poi c'è il prete, perché il parrucchiere sa un po' tutto di tutti. Sì, certamente. Che consiglio posso dare? È che i capelli, grazie a Dio, crescono. E bisogna tagliarli, sempre. Dunque è un mestiere dal mio punto di vista sicuro, perché non ci sarà mai la crisi del settore. I capelli li abbiamo tutti, un po' meno. Il futuro dei parrucchieri sarà poi andare a frequentare dei corsi, delle scuole. A Genova io, come ho detto prima, sono il segretario regionale dell'ANAM. L'ANAM vuol dire Accademia Nazionale con Settori Misti. A Genova, in via 20 Settembre, abbiamo un centro dove al lunedì, al martedì sera e al giovedì sera facciamo scuola, volontariamente. Noi mettiamo proprio, come qui Andrea c'è già stato, la vostra pratica la mettete. La mettiamo, è portare in questa... Cioè, noi abbiamo preso dell'acqua in una fontana dai nostri più anziani e noi cerchiamo di dare quest'acqua, cioè la manualità, a dei giovani che vogliono intraprendere questo mestiere. Quanto dura un corso? Un corso dura dal mese di ottobre a maggio, ci sono degli esami, e niente, si applicano e da qui escono fuori dei parrucchieri che li togliamo dalla strada poi. Cioè, non sono più a bighellonare in giro, togliamo e creiamo dei parrucchieri nuovi che tutti quanti, come ho detto prima, abbiamo bisogno, sia uomo che donna. Quindi bene, andiamo orgogliosi di queste medaglie. Ringraziamo Pietro Pastorino che ci ha chiamato per raccontare la sua breve storia. Avete visto delle immagini di sotto, quindi complimenti a Pietro, complimenti anche al ragazzo che ci ha ospitato qui oggi, e con voi ci vediamo i prossimi tre minuti. Grazie. A tra poco con lo sport.